Salvare la memoria per chi viene dopo, impalsamarla per chi viene prima, ho ricevuto un libro. Buongiorno, mi do il benvenuto a Treviso, città di cui conservo buone e belle memorie, belle cose, patria di Arturo Martini, scultore di Comisso, ricordo una mostra alla casa dei Cararesi di molti anni fa, una mostra di scultura, ricordo un arresto a Treviso, quindi ho dei bei ricordi, anche quello dell'arresto per un equivoco in un bar, ma eravamo noi gli equivocati del cervello che eravamo sbronzi, comunque parlo di 30 e passa anni fa, è Bar Garibaldi, non so neanche se esiste più, ma là dove si inventano dei incontri letterari, non vorrei chiamarli festival, se no magari vengono diminuiti come ricordando Sanremo, incontri letterari come ha fatto Mantua, come ha fatto Gavò in Sardegna, come ha fatto Pordenone, legge Treviso mancava e meritava un festival dei libri, delle chiacchiere dei libri, forse non meritava Corona, ma un festival letterario sì, quindi sono venuto volentieri, anche oltre che per la vanità, per tornare a Treviso, mi piacerebbe trovare quei poliziotti che mi arrestarono 32 anni fa e dire loro vedete come cambia il mondo, forse allora ero più vero e meno recitante di oggi, ma preferisco l'oggi che quei tempi lì, dicevo nella nazione che legge meno, perché ci ha battuto tutti, siamo la nazione nel pianeta che legge meno, ci ha battuto persino il Biafra se esiste più, la Grecia, inventare, avere il coraggio di inventare un festival letterario, va solo un applauso a coloro che hanno avuto questo coraggio, perché si legge poco, è come aprire una libreria, oggi aprire una libreria vuoi per la crisi, vuoi perché non leggiamo, vuoi che, bisognerebbe aiutarli con incentivi, chi apre una libreria, dargli l'affitto gra, perché è difficile aprire una libreria e soprattutto tenerla aperta, è molto difficile, è un periodaccio, però Treviso se lo meritano, io sono sicuro che se daranno a questa iniziativa carta carbone, non esagerando, non chiedendo, ma i mezzi necessari, quei contributi necessari, quei soldi necessari per tenere in piedi questa cosa nel giro di dieci anni farà onore veramente a Treviso, io proprio spero, pregherò perché visto che si tagliano i fondi su tutto, perché Renzi ha la lingua lunga, ma tagliare i fondi sulla cultura, è come tagliarsi il cibo, quindi attenzione, tagliamo i ministeri, tagliamo l'IF35, faccio un po' di politica, tagliamo i ponti a Messina, le TAV, ma no i soldi per la cultura dei libri, quello deve essere al primo posto e creare lettori, perché ogni tanto sento la gente che si lamenta, non vende libri, il mercato delle teorie, ma ho sentito nomi famosi, capitani di industria del libro, che è un po' in crisi, il mercato del libro è perché bisogna prima che fare libri, bisogna fare lettori, bisogna creare lettori, come si dare la colpa alla scuola, nelle famiglie, quando una mamma non legge una fiaba al bambino che a tre anni, quattro anni comincia a sentire con l'orecchio, allora dice sta fermo lì, c'era una volta un'aquila che aveva il becco dritto, lui dirà ma ecco perché domani te lo spiego e legge un'altra riga, nel giro di una settimana li legge la fiaba intera, lo crea il lettore dai tre ai sei anni, non dopo, dopo è già tardi, dopo ci avrà la noia della scuola, perché è una scuola noiosa seppur necessaria, anche lì inventare una scuola dove il bambino non vede l'ora di andarci, siamo all'età del bronzo della scuola, comunque creare i lettori e poi la mamma li legge una fiaba intera, qualsiasi cosa, anche topolino, appuntate, quando il bambino avrà sei anni che andrà a scuola, chiederà lui i libri, i libri salvano la vita, sono la medicina, la farmacie dell'anima, sono i libri, le cose, le librerie, ma bisogna creare lettori, qualche volta nelle mie comparsate pubbliche trovo le mamme, mio figlio non legge, ma quanti anni ha signor? Eh ne ha 15, 14, eh no non legge più, colpa sua che non ha letto, colpa sua se non l'ha educato, cioè ammaestrato ad aver voglia dei libri, i libri salvano la vita, ci sarebbe anche molta gente meno in carcere, diceva Borges, grama quella famiglia dove non entra un libro e quindi vedo questa cosa di Treviso molto bella, mi piace molto al di là dell'esibizione personale, questa vanità che tutti abbiamo, ma io ho coraggio di confessarla, altri no, fanno spallucci e ti danno un premio, ah non serviva, perché vai a prenderlo allora, lascialo lì, venga al di là della mia vanità personale, queste sono cose fondamentali, non solo per la città, ma per il singolo, preso uno per uno, anche poi per l'aggregazione, per le chiacchiere, discussioni, portare temi, quindi io veramente pregherò il Dio dei libri, perché io ho vari credi, pregherò davvero il Dio dei libri, che questa iniziativa vada avanti sempre, sempre, e applauso a chi l'ha inventata, che ha avuto coraggio soprattutto in questo momento, dove è una follia inventare un festival letterario, un raduno letterario, io pregherò il Dio dei libri e dei lettori, che vi dia lunga vita.